Uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Almaria, ascoltate! L'ora delle decisioni irrevocabili! La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ammazzati. La dichiarazione di guerra è stata consegnata agli ammazzati. La dichiarazione di guerra è stata consegnata agli ammazzati. La dichiarazione di guerra è stata consegnata agli ammazzati.